buongiorno oggi si ricicla avete fatto caso che quando vi arrivano i pacchi shogun dentro ci sono questi palloncini antisbattimento ok non buttatevi perché perché semplicemente tagliando il bordo sopra potrete ottenere dei tacchetti cioè voi potete ritagliare il bordo in alto e vedrete che in automatico si sgonfieranno perché comunque uscirà l'aria e potete dopo pareggiarli vi accorgerete che ogni bustina vedete esce l'aria ogni bustina si può staccare e logicamente adesso li ho tagliati in maniera molto molto semplice semplicemente ripareggiando il bordino in alto mi togliendo il pezzo sopra si apriranno e saranno delle ottime bustine per mettere dentro campioncini profumi qualsiasi cosa da poter regalare mettendo un fiocchetto diventando anche dei carinissimi sacchettini quindi non buttiamo nulla perché tutto ci può essere utile poi sono molto carine perché c'è scritto shogun e da poco arrivano anche quelli di supple fit dentro potete mettere qualche campioncino magari qualche bustina del milkshake multipass quindi usate l'inventiva e andate a sponsorizzare buona giornata a tutti e buona domenica